Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. Per capire come mai una persona si comporta in un determinato modo penso sia molto importante conoscerla almeno un po', conoscere la sua storia e questo vuole essere un video di condivisione con voi del perché io sono uno penso tra i più bullish sulla terra per quanto riguarda le criptovalute. Prima di iniziare però prendete e ammazzate il bottone del like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere aggiornati. Così facendo ragazzi ci darete un aiuto veramente enorme. Allora iniziamo dalla mia infanzia, non ve la farò lunghissima ragazzi se no stiamo qua a 18.000 ore, non scenderò nei dettagli, vi riassumerò un po' appunto quello che mi è capitato nella vita così potrete capire perché sono l'uomo che sono oggi, cosa mi ha portato ad essere e a pensare in una certa maniera. Quindi partiamo perché i primi anni della mia vita sono stati abbastanza agiati, i miei stavano parecchio bene, poi è successo il patatrack perché la ditta di mio padre è andata in fallimento, in più lui ha avuto seri problemi di salute e un casino dopo l'altro e direi che lì io probabilmente da ragazzino mi sono chiuso un po'. Siamo andati a vivere in un posto che era una cosa orripilante, i miei genitori si sono ammalati e anche lì ho sofferto parecchio, poi per fortuna hanno avuto la classica botta di fortuna e siamo finiti ad abitare in un posto splendido, abitavo in un parco, tanta tanta roba, in un castello, veramente una favola. Lì tra l'altro ho conosciuto i miei compagni d'avventura, i fratelli, così lo sapete tutti, sì sono fratelli Eichel e Muro, abbiamo iniziato assieme da amici, giocavamo assieme, andavamo a scuola assieme, almeno con Muro e con Eichel no perché è un po' più grandicello di me, un po' ci siamo persi ma poi ci siamo ritrovati. Siamo amici ormai da 36 anni ragazzi, loro sono fratelli quindi sono da sempre amici e fratelli naturalmente e comunque quegli anni sono stati molto felici, nonostante nel tempo mio papà avesse sempre più problemi di salute, il che non mi ha aiutato assolutamente. Ho avuto un'adolescenza comunque tranquilla, avevo parecchi amici, ci divertivamo, andavamo a concerti, una bella banda molto ignorante, almeno all'epoca da ragazzini, per poi un bel giorno finire la scuola. Non ho finito del tutto la scuola, io sinceramente andare a scuola non l'ho mai tollerato, probabilmente non tanto per colpa mia perché alcune materie mi piacevano, andavo bene, ma alcune materie proprio non le assimilavo, probabilmente sarà stata anche colpa dei professori, non voglio dare soltanto la colpa a loro perché non l'ho finita, comunque diciamo che ci hanno messo del loro perché non mi hanno fatto assolutamente appassionare alle materie che spiegavano. Quindi finita la scuola con alti e bassi, casini vari, sono partito, sono partito a lavorare sulle navi da crociera, per tre anni mi sono buttato, volevo cambiare, mi ero rotto di stare nel piccolo posto dove stavo, la Valle d'Aosta, comunque in realtà abbastanza piccola e chiusa, bello è, bellissimo posto, però direi che sulla vita sociale ha ancora tanto da lavorare. Ebbene questa avventura in nave mi ha aperto totalmente il cervello, ho avuto la fortuna di confrontarmi con persone di tutto il mondo, quindi anche culture diverse, mi ha completamente cambiato appunto il modo di pensare. Anche lì c'è chi se la passa da paura, c'è chi se la passa abbastanza male, anzi malissimo direi. Pensate che alcune persone si imbarcavano soltanto per poter scappare magari in America, io non ho assistito a queste cose perché non sono stato in America del Nord, ma ho vissuto praticamente sempre sulla nave in Brasile un annetto e anche lì ho potuto appunto vedere delle realtà differenti. Dimenticavo di dire che prima di ciò comunque, quindi prima di imbarcarmi, ho lavorato da cameriere, da lavapiatti, ho lavorato sugli ski lift, ho fatto tanti lavoretti, ho imparato molto e ho fatto le mie esperienze, ho sgobbato parecchio e comunque appunto volevo essere indipendente, non volevo essere dipeso alla mia famiglia. Dopodiché finita la mia avventura in nave, perché era finito il contratto della società per la quale lavoravo, sono tornato a casa anche per altri motivi, sempre legati al mio povero papà e da lì mi sono ristabilizzato in Val d'Aosta. Dopo un annetto sabbatico di relax, dato che avevo alcuni risparmi ancora dalla nave da crociera, ho dovuto trovare un lavoro e ho lavorato per 12 anni in una comunità psichiatrica. Diciamo che all'inizio ero tranquillo, ma negli anni poi ho iniziato ad accusare, sono andato in burnout, ho lavorato 8 anni praticamente solo di notte, il che non mi ha fatto né bene al fisico né al cervello, diciamo che mi ha scombussolato parecchio. Quindi dopo questi problemi legati al burnout, ho avuto un bel attacco di panico, con conseguente ansia, che non consiglio a nessuno, però capita, purtroppo sono cose che capitano. L'ho superata, l'ho superata abbastanza bene, ho dovuto trovare ancora un po' lungo, però ho resistito qualche annetto, sempre nella comunità psichiatrica, anche perché potete immaginare cosa possa aver visto. Sicuramente c'è di peggio, non mi lamento assolutamente, ci mancherebbe, ma ho potuto vedere scene veramente allucinanti, che non sto qua a raccontarvi, e conoscere delle persone altrettanto allucinanti. Poi naturalmente c'erano coloro che erano tranquilli, però nel complesso diciamo che alcune scenette che ho visto non le consiglio a nessuno assolutamente. Che stata dura, però è un lavoro che mi ha forgiato, così come quello della nave, dei lavori duri dove sgobbavi, però molto gratificanti a livello di conoscenza e di crescita personale. Per mia fortuna, e qua arrivo al punto, le criptovalute mi hanno fatto svoltare letteralmente. Molti di voi sapranno già, quelli che ci seguono da più tempo, che ho iniziato con degli scammoni pazzeschi, quindi mi sono fatto scammare, però poi mi sono fatto furbo, ho investito più che altro in altcoins, e mi è andata parecchio bene. Poi tra il canale che è cresciuto, un po' è diventato un business, anche se non ci campo, è per farvela proprio semplice, ragazzi non pensate che se abbiamo un canale YouTube siamo ricchi, assolutamente no, anzi io ho un lavoro, mia moglie lavora, arriviamo tranquillamente a fine mese, ci mancherebbe, in più ci sono le entrate del canale che fanno sempre comodo, i soldi guadagnati per il mio lavoro, dove non mi faccio più il mazzo come ai tempi, dove sono abbastanza autonomo, quindi mi piace farlo, poi imparo tutti i giorni qualcosa di nuovo, e però appunto quelli sono i soldi che magari spendo per la spesa, piuttosto che per l'affitto, mentre gli investimenti crypto non li voglio assolutamente toccare. Sono riuscito comunque a raggiungere un bel compromesso, non sono ancora in pensione anticipata, assolutamente no, però sono felice, mi trovo bene, in più in Valle d'Aosta, nonostante le montagne a me piacciono, mi ero stufato del paesaggio, e quando ti stufi di montagne della Madonna, cioè bellissime gai davanti, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ah, come potete vedere alle mie spalle, ho cambiato completamente scenario, ora viviamo al mare, una cosa che ho notato su tutte è che mi è cambiato l'umore, l'inverno in Valle d'Aosta dura parecchi mesi, 7-9 mesi l'anno, è veramente dura, il sole se ne va alle 4-5 del pomeriggio, è una cosa abbastanza deprimente, direi dopo un po', almeno per me, per come sono fatto io, invece qua tanta roba, adesso sono tipo le 8 di sera, c'è ancora il sole, e tutto l'anno comunque diciamo che il sole ce n'è parecchio, il caldo aiuta psicologicamente, esci, ti fai un giro, vai al mare, vai magari a berti qualcosa, ma anche soltanto a farti una passeggiata, non c'è bisogno di andare a bere qualcosa per forza, comunque diciamo che mi ha aiutato molto, quindi ho cambiato completamente vita, sono alla ricerca della mia libertà finanziaria, spero un giorno di potermi dedicare appieno al canale, magari farlo crescere, prendere dello staff che ci segua, magari anche un montatore di video, così la smetterò di montare i video, che è una cosa che mi piace, ma probabilmente è la cosa che mi stressa di più da fare sul canale, ma ripeto, non mi lamento, prima era peggio, quindi adesso sto alla grandissima, sono felicissimo di quello che faccio, non mi pesa assolutamente, anzi lo faccio con super piacere, così come con super piacere sto condividendo con voi un po' della mia vita e adesso sono diventato comunque un uomo diverso, sono cresciuto, spero in bene, spero di essere migliorato, più vado avanti negli anni, più sono diretto e sincero, meno mi faccio problemi, da ragazzino ero introverso e come vi ho detto i problemi che ho affrontato, soprattutto familiari, non mi hanno aiutato, ma poi col tempo ho assimilato, ho assorbito il tutto e adesso sono qui davanti a voi e devo dire che per quanto mi riguarda almeno le criptovalute sono state la mia salvezza, o meglio, mi hanno cambiato completamente la vita, quindi io posso soltanto essere grato al campo cripto, poi nell'ambito vedo qualcosa che non mi piace, ma sono cose che dove girano i soldi sono più che normali, io arrivo da tutto un altro mondo, il mondo finanziario fino a qualche anno fa non era assolutamente cosa mia, mi sono evoluto da quel punto di vista e con tutto quello che ho visto passare in questi anni nel cripto penso che non si possa fare altro che essere bullish, almeno sul lungo periodo. Non voglio tornare ai soliti discorsi, se ci seguite lo sapete benissimo, ve le riassumo brevemente, le performance di bitcoin, l'evoluzione delle altcoin, i nuovi settori in fase di sviluppo, le persone che lavorano seriamente in questo settore, che danno un valore aggiunto veramente devastante, si può essere assolutamente massimalisti, si è liberi di fare ciò che si vuole con bitcoin, comunque fatto sta che le altcoins comunque danno una scappatoia dal mondo normale a tantissime persone, quindi lavorare nell'ambito cripto è uno spettacolo per quanto mi riguarda, ognuno fa il suo naturalmente, c'è chi sviluppa, c'è chi fa divulgazione come facciamo noi, ma ci sono tantissimi altri lavori, quindi c'è gente che ci mangia e non so cosa pensate voi, ma penso che sia molto meglio guadagnarsi da mangiare, quindi guadagnarsi la pagnotta, lavorando nel campo delle criptovalute piuttosto che i classici lavori tradizionali che tutti conoscete benissimo, quindi non cito neanche, sono duri, danno poche soddisfazioni, ci sono tante tante problematiche, soprattutto in Italia, paese che io ho abbandonato a malincuore, devo essere sincero, se l'Italia fosse un paese un po' più sensato, con delle leggi, e mi riferisco alle criptovalute, con un minimo di criterio, non soltanto per spillare soldi, pur non conoscendo la materia, e qui io chiudo il discorso, se volete andate avanti voi con questo discorso nei commenti, comunque io mi sono separato da quella realtà e devo dire di essere felicissimo di averlo fatto, alcuni magari dicono a te sei scappato, sei un codardo, ma in realtà io non la penso assolutamente così, se uno non mi viene incontro non vedo perché alla lunga dopo comunque anni e anni, ho vissuto in Italia tantissimi anni, io debba andare incontro a lui, assolutamente no, non ci siamo assolutamente, poi per come vivo io la burocrazia, diciamo che non fa proprio per me, quindi ho deciso di abbandonare, ripeto a malincuore perché è un paese veramente bellissimo, anche la gente dà paura, però purtroppo anche se tutto il male non viene a nuocere, ora abito comunque in un contesto che mi piace tantissimo e almeno per adesso apprezzo ogni giorno di più, in futuro si vedrà. Quindi ragazzi per concludere sono alla ricerca della mia libertà finanziaria totale, voglio andare in pensione, spero questa burran di poterci andare in tutta tranquillità, cosa che naturalmente auguro a tutti voi, in bocca al lupo, spero di essermi spiegato, spero di aver fatto capire ai tanti che magari non capivano il perché sono bullish sulle crypto e proprio per questo ho voluto aprirmi un po' a voi per spiegarvi che persona sono e qui mi riferisco al fatto che sono una persona molto ottimista nella vita in generale, non dico di aver visto le cose più brutte della storia ma per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, le cose che ho visto mi hanno aiutato a vedere tutto in maniera positiva, anche perché di vita ne ho una, voglio viverla a pieno, voglio viverla al meglio, cerco di avere meno casini e preoccupazioni possibili, penso di averne già avute abbastanza e quindi non voglio ulteriori problemi, mi basta così. Non vi ho raccontato proprio tutto tutto perché se no facevamo notte, spero che abbiate vivamente apprezzato questa chiacchierata, chiacchierata che spero vi sia servita per conoscermi un po' meglio. Sarebbe davvero uno spettacolo potersi confrontare tutti assieme, purtroppo non è possibile, ogni tanto io incontro qualcuno di voi qui a Malta e mi fa un piacere veramente immenso, anche perché magari appunto uno legge un commento positivo o negativo e bisognerebbe conoscere meglio la persona che ci sta dietro a questo commento per capire appieno perché si potrebbe fraintendere, ci potrebbero essere comunque mille ragioni perché ha fatto quel commento. Difatti io cerco normalmente nella mia vita di non condannare né giudicare nessuno, se una persona agisce in una certa maniera comunque è anche la sua vita e le sue esperienze, la sua conoscenza, la sua cultura che l'ha portato ad essere la persona che è oggi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine, riprendete e ammazzate il bottone del like, un abbraccio a tutti, alla prossima da Rick, ci si rivede sempre qui su Hard Rock Crypto. Yeah!